Tocca a me adesso. Ho sentito i tuoi pezzi classici, ora senti i miei. Degli Air Wind & Fire te ne ho già parlato. Senti questa che figata. Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici noi saremo privi di consapevolezza e incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2! Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! Giorgia! Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono cristiana! Ma noi non siamo persone! Noi siamo LGBT! E difenderemo la nostra identità! Voglio dire che non credo in uno stato che mette il desiderio di Giorgia di fronte al diritto di un uomo sessuale! Uno stato che mettoare lo soggetto!